Ecco, proprio per fare ancora più chiarezza, per cercare di fare chiarezza, ringraziamo per essere con noi oggi Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento. La prima cosa che le chiedo è la risposta alla notizia ultima che il TAR di Trento ha sospeso l'istanza di abbattimento dell'Orsa JJ4 per il ricorso presentato dalla Lega Anti-Vivisezione e vorrei capire che cosa ne pensa e che cosa conta di fare. Buon pomeriggio, innanzitutto non abbiamo avuto ancora modo di analizzare precisamente e puntualmente questo decreto, quindi non entro nel merito del decreto, lo stiamo facendo con i nostri uffici legali. Di certo è un decreto che ci sorprende, nel senso che non era certamente atteso, perché la nostra principale preoccupazione è la tutela dell'incolumità delle persone e vederci sospesa una nostra ordinanza che va in quella direzione è chiaramente sorprendente. D'altronde noi siamo un'istituzione votata dai cittadini e abbiamo a cuore tramite il percorso democratico che sta alla base della nostra istituzione, abbiamo a cuore la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e di questo gioco forza, nostro malgrado rispetto ad altre decisioni che vengono avanti, continueremo ad occuparci nel rispetto delle comunità del Trentino che chiedono questo. Però mi perdoni Presidente, non è che ci sono tre orsi problematici, non è che li possiamo ammazzare tutti, forse i tre orsi, però siccome ce ne sono, sappiamo che erano previsti 50 orsi in quella comunità, ne sono nati oltre 100, in che modo si può garantire la sicurezza di chi vive in quei boschi? Perché immagino che non è che potete ammazzarne 50 su 100, ecco non è quella credo la strada, non è quello credo che avete in mente di fare. Nessuno ha parlato di questo. No, no, appunto, no, e sull'ipotesi spostamento che sarebbe emersa dal tavolo del ministro Pichetto Fratin, li spostate dove gli orsi in più che vivono nella sua comunità? Allora, noi abbiamo tre orsi problematici, problematici vuol dire che hanno aggredito le persone, una abbiamo sentito anche purtroppo a morte, oppure hanno avuto comportamenti confidenti con le comunità, con i paesi, cioè si sono avvicinati alle case, eccetera. Tre di questi, dei nostri esemplari che abbiamo, sono pericolosi barra confidenti e questi vanno abbattuti, vanno abbattuti nel rispetto della sicurezza delle comunità. Poi, come dice lei, il progetto Life Ursus era iniziato prevedendo che il numero di esemplari che sarebbero arrivati sul nostro territorio e che poi si sarebbe disperso nell'arco alpino, se ci sarebbe promossi nell'arco alpino, era una cinquantina di esemplari. Poi cosa è successo, sostanzialmente dopo più di vent'anni dall'inizio di questo progetto? Che gli orsi sono un centinaio e più e sono rimasti in Trentino, sono tutti in Trentino. Io non sto qui a sindacare perché non sono andate nelle altre regioni, non mi interessa, nel senso che evidentemente in Trentino si troveranno bene, ma quel numero è sovra dimensionato. E ora che facciamo però? Cosa non ha funzionato e come possiamo riportarlo al progetto originario? Quello che abbiamo discusso con il Ministro Picchetto e che discuteremo a breve in tavoli tecnici che il Ministro si è impegnato a convocare e non abbiamo dubbi che ciò avvenga, è quello di trovare un percorso che porti a spostare questa settantina di esemplari in più che abbiamo sul nostro territorio in altre realtà. È chiaro che ce lo deve dire al Ministero, noi non abbiamo le competenze diplomatiche per impostare un percorso di questo tipo, ma è chiaro che deve essere fatto e deve essere fatto in fretta, non devono essere le promesse fatte in una comunità che tanto poi si pensa che si potrà dimenticare di questo, questo deve avvenire in fretta, altrimenti torniamo al problema della sicurezza pubblica, quel problema della sicurezza pubblica che un Presidente di provincia eletto dal popolo almeno finora, prossima volta vedremo, ha il dovere di rappresentare rispetto alla propria comunità. Quindi mi sembra di capire che il titolo è che lei aspetta dal Ministero un progetto di spostamento degli orsi, ok? Che al momento non c'è, oggi non c'è, magari ci sarà lunedì, martedì, vedremo cosa accade. No, non c'è perché non si era mai posto il problema, sa perché non si era mai posto il problema? Perché non era mai stato voluto prendere in considerazione seriamente, perché le istituzioni nazionali non si sono mai realmente occupate di questo problema. Sono vissute. Ma lei l'aveva detto sono troppi orsi? Cioè risulta che lei avesse detto agli altri Ministri dell'Ambiente c'erano troppi orsi, sono troppi orsi sul mio territorio? Guardi, io, al di là che l'abbia detto io, i miei predecessori, l'hanno detto anche i miei predecessori. Io nel 2011 facevo il parlamentare, 12 anni fa, ho cominciato a fare interrogazioni sulla situazione degli orsi in Trentino, 12 anni fa. Quindi sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Quindi era un allarme già dato. Era un allarme già conosciuto. Chiarissimo, velocissimamente perché sono in ritardo. L'ultima domanda sul radiocollare che si dice scarico, ha le batterie scariche, non ho capito se si è rotto, che cosa è successo che sta sul collare, credo, di questa orsa JJ4. Come mai? Si è scaricato da agosto? E nessuno ha cambiato le vile? Guardi, sul radiocollare sono discussioni da salotto. Perché? È molto fatto e molto spesso nelle trasmissioni televisive di chi pensa che il radiocollare è un orso, sia come metterlo al cane che hai a casa sul divano. Questo pure è giusto. Per mettere un radiocollare a un orso occorre, primo, mi faccia spiegare cos'è un radiocollare, primo catturare l'orso. Per catturare l'orso, l'orso deve entrare in una trappola a tubo e non è detto che ci vada in questa trappola a tubo, ci può mettere del tempo, cioè lo dobbiamo invogliare ad andare in quella trappola a tubo. Dopo lo dobbiamo sedare e lei sa che così come è rischioso per l'uomo, è rischioso anche per l'animale la sedazione. Infatti, tutto casualmente, purtroppo, l'ultimo orso ci è morto durante la sedazione. Quindi, una volta sedato, gli mettiamo il collare e allora poi lo liberiamo. Un orso, tra il periodo dell'etargo e quando esce dall'etargo, può variare anche di 50 kg il proprio peso, perché un orso è un animale dai due quintali, quintali e mezzo, ai tre quintali e mezzo. variando di questa quantità di kg il proprio peso, il collare si può sfilare dal collo oppure, viceversa, può essere stretto per l'orso e quindi si può staccare perché il collo cresce. Ho capito perfettamente e la ringrazio per aver chiarito, perché ovviamente sono domande che a casa tutti si sono fatti. La ringrazio, buon lavoro e se ovviamente continueremo a informare i nostri telespettatori dell'evoluzione di quello che accadrà in Trentino e nel resto delle persone.